Poi sentite, non ne voglio parlare più, o in questo paese, guardate non ne voglio parlare più, o la stampa si convince che la verità in un paese democratico viene stabilita dai magistrati oppure non può decidere che le proprie invenzioni autorreferenziali diventano la verità e che lo fate per spirito di casta. Questo è inaccettabile, perché veramente allora ha ragione Orson Welles. Va bene? Ok, della lettera. La lettera è fatta di sensazioni personali, sempre rispettabili da parte di qualcuno, ma non di fatti che vengono comprovate dalla magistratura. La manchiera ha specializzato le sue dimissioni? Chi? La manchiera, ve l'ho detto che è dimessa da sei mesi, ma è giusto per capirci. Che perché? E abbiamo dirigito insieme cose. Quanto le... quindi è una questione, penso che lo farò persino oggi. Presidente, ce ne andiamo.